Who lives in a pineapple under the sea? Terry Spacey! Cos'è successo esattamente? Una sese di 17 anni sembra un colossale cazzo. Spinge i genitori fuori strada per distruggerti. Vuole ancora farmi fuori con quella palla a forma di pesca? In questo modo lui otterrà il veleno, il veleno percusco. È una paglia. Sei sotto i riflettori per la riforma dell'idiota. Devo chiamare i tori, immagino. Non basta una telefonata. Devo chiamare una marea di tori, immagino. Odio queste orie di merda. Gillian? Clara? Gillian? Clara? Grazie di essere Gillian. Andiamo a parlare nel mio fifo. Che belle queste fotografie. Grazie. No. E Gillian, il fotografo, l'hai mai sentito nominare? No. Il mio fifo è di là. Quella ragazza è morta. Ma sai una cosa? Quella ragazza è ancora viva, quindi è morta. Abbiamo visto lo statuto. I guardrail sono guardrail. E non è tutto. È morta, quindi è morta. Ma ti dirò una cosa. Quella ragazza sarebbe ancora viva. Dov'è Steve? Si è sentito male un'ora fa, signore. Mi ripeti? Si è sentito male un'ora fa, signore. Mi ripeti? Veloce. Si è sentito male un'ora fa, signore. Mi ripeti? Senza senso. Si è sentito male un'ora fa, signore. Ehi. Che stai facendo? Sto lavorando. Peter. Venerdì. Giovedì. È domenica. Ma chi se ne frega? È venerdì. Devo dirtelo. C'è il caffè in cucina, se lo vuoi. Hai fatto bene a dirmelo. Caffè con formaggio. La Bibbia si gira e si rigira. Noi non riusciremo mai a capire perché Dio ha preso la PS vita. Quindi ora mi rivolgo a te, signore. Io ti obbio, Dio! Mio padre è morto per un attacco di cuore a tre anni. Tre anni. Mio padre è morto. E il deputato Underwood è il mio capo. Senza formaggio. Un aspetto disgustoso. E ora prendete la cena e andate in camera. Ma io volevo... Ora prendete la camera e andate in cena. Guardate il mantello magico di Oreo! E tu che cazzo ti fai qui? Credo che tu sia un'ingrata, egoista, piccola... Piccola che? Trota. Tu sei una trota. Non ho molto tempo, Frank. Sono blibi. Il primo pensiero è stato quello di dirtelo, ma il secondo pensiero è stato quello di dirtelo perché posso influenzare uomo. Ma sei impazzito? Ti avete pronti, ragazzi? No, vedo cheuci al volo. Mio padre è morto. English, motherfucker! Do you speak it? Do you speak in... Then you know what I'm saying. Shish. Describe what Marsellaus Wallace looks like. Shish. Grazie.